Ciao a tutti, sono Chiara Breveglieri, ho 45 anni. Sto frequentando il Master di Perfezionamento delle tre tecniche base. Devo dire che ha fatto uscire anche queste emozioni alle quali magari non ci si approccia normalmente, non ci si ferma a pensare, e oltre a dare ovviamente un grande supporto alle tecniche già in corso di opera, aiuta soprattutto a consolidarle e a trovare nuovi spunti per dare un massaggio, un servizio ai nostri clienti sempre migliore.